Ragazzi oggi nuovissimo unboxing è un pacco bello grande che mi è arrivato dal Regno Unito dal Regno Unito quindi mi ha fatta di strada però comunque qua dentro ci sta la terza maglia della Juventus stagione 2016-2017 con un giocatore molto forte e molto iconico per la Juventus apriamo subito il pacco e vediamo come si presenta mai vista prima volta che la vedo ragazzi se vi state chiedendo dove l'ho presa sta maglia ragazzi l'ho presa su Vinted ragazzi maglie originali originali no fake a basso prezzo come questa qua ragazzi non potete sbagliare non potete sbagliare tutte quante bellissime evitate di comprare il falso perché è illegale e non è bello ragazzi su Vinted trovate roba legale originale e tutt'altro spacchettiamo il pacco lo faccio anche vedere già già si intravede c'è guardate quanto è bella ragazzi c'è quanto quanto è bella quanto è bella sta maglia cioè ragazzi è stupenda vecchio logo della Juventus patch scudetto patch Coppa Italia patch adidas logo della Jeep e l'ho trovata anche con la patch Champions League se si vede Champions League bellissima lo stanno arrivando a Cardiff purtroppo sta maglia va anche un dolore enorme averla perché arrivamo a Cardiff in questa stagione purtroppo perdemmo con Real Madrid patch ovviamente della Respect questa qui se si vede UEFA Respect e di chi l'avrò presa nella cobertina purtroppo vi ho fatto un piccolo spoiler però l'ho presa anzi l'ho trovata di Higuain ragazzi il grandissimo Higuain il grandissimo Higuain ragazzi quanto è bella quanto è bella sta maglia particolare tutta quanta zebrata la zebra era ovviamente l'icona della terza maglia però ragazzi quanto è bella zebrato ovviamente vi faccio anche vedere che è originale codice di verifica se si vede si ve lo scrivo anche qua anzi non c'è bisogno ragazzi il codice dovrebbe essere AP8906 e mi esce la maglia tutta originale mi mancava questa e finalmente dopo tanto tempo l'ho presa ovviamente logo della Jeep non è una patch intera però solamente le lettere sono state termo applicate non ci sta ovviamente la scritta Sai Games perché l'anno dopo incominciamo la partnership con Sai Games quindi per quell'anno era vuoto qua giù ovviamente è fatta in Cambogia mi faccio anche vedere fatta in Cambogia in Cambogia quindi potete capire che è originale però ragazzi iconica 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 un'icona ragazzi qua stanno le strisce Adidas che dovrebbero stare normalmente qua sopra però per adesso le hanno messa già per allora le misero al lato in giù della maglia stanno anche qua se si riesce a vedere si ragazzi stupenda iconica una maglia diciamo abbastanza retro però se avete l'opportunità ti fate Juve compratela perché con suo nome qua dietro veramente tanta tanta roba ciao ragazzi è sempre e solo Forza Juve stiamo al canale ovviamente per altri unboxing detto questo ciao ragazzi è sempre Forza Juve Forza Juve